Aumentano vertiginosamente le tariffe per i traghetti da e per la Sardegna. Berlusconi aveva promesso un ribasso, che cosa è successo oggi in Commissione Trasporti? Abbiamo ascoltato l'amministratore straordinario di Tirreni al quale anche lui la butta come giustificazione sulle tariffe aumentate a causa del caro petroli, ma questo non giustifica praticamente un raddoppio, un aumento minimo del 60-70%. Abbiamo discusso di questo, Tirreni, che è una società che percepisce i contributi dallo Stato, una società di navigazione pubblica, quest'anno non ha svolto una funzione carmieratrice. Il paradosso è che mentre c'è la procedura di privatizzazione, si dovrebbe, liberalizzando il mercato, creare un meccanismo di concorrenza, noi abbiamo l'effetto contrario. Rispetto alle tariffe abbiamo un aumento ingiustificato mai visto, tariffe che aumentano del 100%. E poi per quanto concerne il pluralismo, le liberalizzazioni, si intravede all'orizzonte una situazione di monopolio, perché la cordata di quelli che vogliono rilevare Tirreni è una cordata dei solidi nodi che richiama in causa gli operatori attuali. È una liberalizzazione fatta all'italiana che ci allontana dall'Europa ma purtroppo fa pagare un duro prezzo all'economia sarda, i cittadini sardi già falcidiati dalle assenze del governo, la vicenda dell'attenza dei pastori, la questione legata alla chiusura degli insediamenti produttivi. E se si dà a questo colpo all'economia sarda, cioè al turismo, la gente con l'aumento delle tariffe sta annulando le prenotazioni, noi avremmo la Sardegna in una situazione di emergenza sociale ed economica senza precedenti. Noi chiediamo innanzitutto di calmierare le tariffe, che Tirrenia che percepisce risorse pubbliche, 72 milioni all'anno dallo Stato per la continuità territoriale, chiamiamola così, utilizzi queste risorse per calmierare, sono sufficienti. E se lo fa Tirrenia io sono convinto che anche gli altri operatori saranno convinti ad abbassare le tariffe, saranno obbligati. Questo è per l'emergenza, per l'emergenza ripeto, perché già siamo quasi all'inizio della stagione e quello che si intravede è molto pericoloso. E poi per il futuro non aggiudicare nelle condizioni date la gara, sospendere, riflettere, il governo venga a riferire, perché quello che sta avvenendo contiene degli elementi di opacità e a noi ci ricorda la vicenda di Alitalia. Non vorremmo appunto una nuova cai del mare.